Ha facoltà di intervenire il senatore Mangialavori, dieci minuti di Forza Italia. Grazie, grazie Presidenti, onorevoli colleghi, membri del Governo. Dispiace appuntare anche in quest'Aula l'assenza del Ministro Grillo. Dopo essere stata assente e richiamata all'Aula dei Deputati, ci saremmo aspettati un minimo di attenzione verso quest'Aula che invece è mancata. Resto, come il collega di Fratelli d'Italia, allibito dal discorso fatti dai colleghi calabresi perché dimostrano, oltre che appartenere ai 5 Stelle, di vivere su un mondo parallelo dai quali l'invito ad abbandonare e ritornare sul mondo reale. Dal calabrese onestamente sono sconcertato perché avevo accolto di buon occhio l'avvento del decreto Calabria perché appunto da calabrese mi auguravo che ci fosse un'azione incisiva come deve essere un decreto volta a risolvere tutte le criticità che per l'amore di Dio hanno portato i governi precedenti di destra e di sinistra ma ci sarebbe aspettati da un governo che si chiama governo del cambiamento, governo dell'onestà un provvedimento che andasse a mettere le mani nei disagi e risolvesse tutti i disagi che i calabresi giornalmente devono affrontare invece è bastato poco per doversi rendere conto che tutto quanto ci si aspettava in un decreto di questo tipo assolutamente non era presente e di più è stata fatta un'operazione scientifica di occupazione del potere non più da parte della regione ma da parte del governo quindi dice bene il collega Magorno quando dice che nulla è cambiato è semplicemente cambiato il datore di lavoro, dalla regione lo avete fatto arrivare al governo perché adesso il governo è rappresentato da voi e viene il dubbio che avete fatto questa operazione soltanto perché impossibilitati a poter gestire la Calabria dalla regione e vogliosi di poterla gestire avete fatto un decreto che vi possa permettere esclusivamente un decreto che basa il proprio asset solo sul darvi la possibilità di gestire la Calabria da Roma ci sono varie cose che non vanno, molte le affronterò domani quando andremo ad affrontare molti emendamenti e questi emendamenti sbugiarderanno i due colleghi Granato e Audino che nei loro interventi di qualche minuto fa avevano detto che con il governo del cambiamento questo mai più la politica metterà le mani sulla sanità domani vi dimostreremo quanto siete bugiardi questo decreto dimostrerà all'Italia e ai calabresi quanto siete falsi, quanto li avete presi in giro ma andiamo avanti il ministro Grillo l'altro giorno è stato autore di una sceneggiata dopo i richiami dei colleghi alla presenza in aula è arrivato in aula, ha fatto una sceneggiata se l'è presa con tutti i partiti che nel corso degli anni avevano distrutto una sanità la sanità in Calabria e che questo modo di agire non doveva più appartenere alla politica in effetti aveva ragione, ha ragione come darle torto ma subito dopo bisogna darle torto perché tutto quello che lei dice non andare bene lo sta attuando con questo decreto in più avete dimostrato quanto poco interesse ci sia da parte del governo per la sanità perché se non fosse stato per i colleghi di Fratelli d'Italia e delle altre forze di opposizione di Forza Italia e delle altre forze di opposizione alla Camera voi avreste impedito alla Regione Calabria di poter assumere personale in un momento di estrema gravità quindi grazie ai colleghi della Camera che sono riusciti ad ottenere almeno questo minimo vantaggio per la Regione ma il mio appello deve andare per forza anche agli amici della Lega vedete cari amici è vero è un provvedimento dei 5 Stelle quindi la prima genitura è dei 5 Stelle ma non consentitegli di poter portare avanti e approvare questo scempio perché sarete complici anche voi di questo disastro e di tutti i disastri che stanno portando avanti i colleghi dei 5 Stelle il ministro Grillo ha detto che ama i calabresi se questo è il modo con il quale il ministro dimostra l'amore verso la mia terra bene che rivolga il suo amore verso altre regioni perché di questo tipo di amore non ne abbiamo assolutamente bisogno né dobbiamo dire grazie a lei per un decreto che nulla ha a che fare con i disagi della sanità calabrese noi dobbiamo dire soltanto grazie alle centinaia di persone medici, infermieri, ausiliari che giornalmente ogni giorno si sacrificano rischiano pur di dare servizi alla sanità sono i medici i veri eroi della Calabria non il ministro Grillo i medici calabresi dovrebbero a mio avviso essere insegniti di una medaglia al valore civile per tutto quello che ogni giorno fanno per noi cittadini ma passando poi nel dettaglio i colleghi soprattutto calabresi hanno giustamente fatto un elenco di tutto ciò che in Calabria non funziona e beh, questo elenco lo potrei fare io cosa non riesco a fare? non riesco a elencare un solo provvedimento messo in atto, inserito in questo decreto che possa risolvere il problema dei LEA il problema della mancanza cronica ormai del personale il problema del debito sanitario il problema dell'emigrazione sanitaria non c'è solo un provvedimento che affronta questi problemi non ce n'è uno lei lo sa, ministro Grillo voi colleghi sicuramente per l'intervento che avete fatto non lo sapete cosa vuol dire un referto di anatomia patologica? beh, ve lo spiego un referto di anatomia patologica è un referto che un paziente aspetta dopo un intervento, dopo un esame che preleva del materiale e serve per dare una risposta cioè far sapere a quel paziente se ha una patologia o meno spesso una patologia neoplastico o meno bene, dite al ministro Grillo che c'è una zona della Calabria la zona centrale dell'ASL di Catanzaro che dà consegne referti istologici ai pazienti dopo tre mesi quindi un paziente per sapere se ha un tumore o meno deve aspettare tre mesi è di questo che si sarebbe dovuta occupare il ministro Grillo non di preoccuparsi di nominare il direttore generale che piace a lei o alla deputata sua amica e domani vi dimostrerò perché si sarebbe dovuto occupare va beh, va beh, ma dimostriamolo con tranquillità si sarebbe dovuto occupare si sarebbe dovuto occupare dei problemi della radioterapia in Calabria caro ministro Grillo esistono solo quattro strumenti di radio di che si possano eseguire la radioterapia ai pazienti oncologici sa cosa vuol dire? vuol dire che un paziente oncologico può effettuare un trattamento che per protocollo deve essere effettuato entro due mesi due mesi dall'intervento chirurgico perché se no è vano può effettuare un trattamento di radioterapia dopo sei mesi di questo si sarebbe dovuto occupare di questo si sarebbe dovuto occupare il ministro Grillo si sarebbe dovuto occupare di non far chiudere i riparti di di ortopedia per mancanza medica di non queste di oggi sala parto sicurezza non garantita l'allarme lanciato dai direttori dei punti nascita della Calabria di questo si sarebbe dovuto occupare il ministro Grillo non dei direttori generali e da qui il rammarico il rammarico mio e di tantissimi calabresi che si aspettavano da questo governo un aiuto alla Calabria invece aiuti alla Calabria non ne avete dato avete dato soltanto aiuti ad una deputata della mia provincia per fare in modo che possa nominare come direttore generale un suo collaboratore che le stesso ha definito non retribuito per favore grazie stiamo per concludere l'intervento senza disturbi grazie non retribuito di questo stiamo parlando nel Dreceto Calabria grazie presidente grazie a tutti grazie a tutti